Nadal annuncia il ritiro dal torneo di Indian Wells. Il campione spagnolo ha preso la difficile decisione di ritirarsi dal torneo dopo un'attenta valutazione delle sue condizioni fisiche. Ha dichiarato, nonostante gli sforzi intensi e i test effettuati lo scorso fine settimana, non mi sento pronto a competere al mio massimo livello in un torneo così significativo. Al suo posto, nel main draw, fa il suo ingresso su Mitt Nagal. Rafael Nadal, il campione spagnolo, è nuovamente costretto a una pausa forzata. In vista del primo turno a Indian Wells, in cui avrebbe affrontato Milos Raonic, Nadal ha preso la difficile decisione di ritirarsi dal torneo. Attraverso i suoi profili social ha annunciato ufficialmente la sua rinuncia al BNP Paribas Open, prendendosi ulteriore tempo per valutare e gestire le sue condizioni. La decisione di Rafael Nadal giunge pochi giorni dopo il match di esibizione tenutosi domenica 3 marzo a Las Vegas contro Alcaraz. Questo incontro aveva fornito alcune indicazioni positive riguardo alle sue condizioni fisiche. Tuttavia, nonostante questi segnali incoraggianti, Nadal ha optato per il ritiro dal torneo, suggerendo che la sua valutazione delle condizioni attuali potrebbe aver influenzato la sua decisione. È con grande tristezza che devo ritirarmi da questo fantastico torneo di Indian Wells. Tutti sanno quanto amo questo posto e quanto amo giocare qui. Questo è anche uno dei motivi per cui sono venuto molto presto nel deserto per allenarmi e cercare di prepararmi. Tuttavia, dopo aver lavorato duramente e dopo aver fatto un test il fine settimana scorso, non mi sento pronto a giocare al mio massimo livello in un torneo così importante. Non si tratta di una decisione facile, ma non posso mentire a me stesso e a migliaia di fans. Mi mancherete molto e sono sicuro che il torneo sarà comunque un grande successo. Il 2024 di Rafael Nadal rimane avvolto nel mistero, con soli tre incontri ufficiali disputati finora dal campione spagnolo. Nel torneo di Brisbane, a gennaio, ha raggiunto i quarti di finale, ma purtroppo è stato sconfitto da Jordan Thompson. La limitata partecipazione a gli incontri rende incerta la direzione che prenderà la stagione di Nadal e mantiene alto l'interesse per le sue future performance. Rimanete aggiornati sul mondo dello sport iscrivendovi al canale e non dimenticate di mettere un like se vi è piaciuto questo video. A presto!